Un'indagine del mensile Playboy afferma che alle donne non piacciono gli uomini di oggi, rimpiangono il maschio di una volta, sognano l'arem e trovano Claudio e Mendola più sexy di Brad Pitt e Bruce Willis. Gli uomini di oggi troppo effeminati 52% e molli 36%, ma anche mammoni 51% e permalosi 39%. Le donne italiane non lesinano critiche al sesso forte, anzi mettono in discussione proprio questa definizione. Il 71% sostiene che il macio non esiste più, rimpiangendolo e al cospetto degli uomini di oggi l'emisfero rosa è nello sconforto. Del maschio di una volta le donne rimpiangono tutto, persino in modi un po' brutti e risoluti con la partner, 54% e il fare da spaccone. Grazie a tutti. Grazie.